Io mi chiamo Reitep e sono l'essenza del male. Signor Superman, no, cassa. Senta, stiamo cercando un bambino che... No, continua, signor Superman, lui no qui, no cassa. Sì, va bene, va bene. Può dargli almeno questo volantino? Grazie, no. No, io non compro, io non ho soldi. Coraggio, lo prenda e se vede questo bambino... No, io ho detto no. Cacchio, odio chiamare quelli della pizza. Parlano strano e fanno sempre casino con gli ordini. È come cercare di dare il numero di cellulare alla domestica. Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare. Ok, sì, nessun problema, mi dì il numero. Ok, 4015551125. Quattro... Quattro, zero... Quattro, quattro, zero... No, 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 stavo solo ripetendo il quattro. Un, quattro. Un, quattro... Ok, cominciamo da capo. Quattro, zero, uno... Quattro... Zero... Zero... Uno... Uno... Quattro, zero, uno... Sì. Cinque, cinque, cinque... Cinque, cinque, cinque... Questo è andato liscio. Ok, uno, uno, due, cinque. Uno, uno, due, cinque. Ecco, sì, perfetto, ci siamo. Uno, cinque, cinque. Cosa? Lei ha detto uno, uno, due, cinque. Uno, cinque, cinque. No, 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 non uno, uno e due, cinque. Due, uno. Due, uno, 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 due, cinque. Oh, cacchio. Ok, allora, quanti sono gli uno? Non le sto dando la quantità dei numeri, le sto dando i numeri. Uno, uno, due, cinque. Sono gli ultimi quattro numeri. Ok. Uno... Uno, uno... Uno, uno... Due... Due... E cinque. Cinque. Oh, ho capito. Uno, uno, due, cinque. Sì, uno, uno, due, cinque. Ok, adesso mi ripeto il numero. Un momento, prendo la penna. Sì? Ah, sì, chiamo per quell'annuncio sul giornale. Ha visto il gnocale? Stai chiamando per il gnocale? È tutto quello che io ho perché sono un giovane ribelle e i miei non sono troppo teneri con me. Quindi voglio dire, non ha nessuna notizia. Non è che qualcuno ha sentito qualcosa o ha visto qualcosa. Mi sembra di vederlo il mio orecci, seduto lì col sorriso sul muso che mi ascolta a parlare di come papà mi piglia, come inaudita violenza. Ok, ho capito. Quindi non c'è nessuna traccia, insomma, eh? Oh, no, no, cagnaccio fuori. Cosa? Fuori, fuori. Io abito qui. No, no, vattene fuori. No, mi senti? Sto facendo una... Ola? Potrebbe gentilmente ripassarmi tra io? No, no, come ora è andato fuori? Non lo sei una nuova domestica, vero? Sì. Senti, non voglio incolpare nessuno, ma mi mancano circa mille dollari del monopoli. Le ho prese io. Che, cosa? Le hai prese tu? Sì. Beh, ridarli. Vieni a prenderle, puttana. Non è la marca che usi di solito, ma va bene lo stesso, è quello del discount. No, no, quello lascia l'alone. Non mi importa dell'alone, usa questo. No, no, io non puoi pulire. Oh, merda. Pronto? C'è anche problema di bagni di sotto. Oh, sì, signore. Sì, 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 silenzio, è l'imperatore, è l'imperatore. Oh, dici che non posso fare da lui venerdì. Ok, ok, sì, signore, sì. Però dici che posso recuperare martedì, che vado lì, faccio due in più così recupero. Cioè, no, no, non riesco a sentire. Vado nello gabusino delle ginocchiere, richiamo io dalle ginocchiere. E anche solo guardare gli altri che si divertono. Ma detesto essere handicappato. A volte mi sento più inutile del capo del sindacato donne e delle pulizie. Esattamente, quali sono le vostre richieste? Ci serve più detersivo al limone. Vi serve più detersivo al limone? Sì. Non è nostra la responsabilità, dovreste portarvelo da casa vostra. No. 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 Grazie.